Fulvio D'Aderio, padrone del destino del Giulianova dove fu e della Vastese dove, grazie a lui, otto risultati utili e con la voglia di proseguire, mentre Leonardo Bitetto deve raccogliere la voce grossa del patron Bartolini che, stanco di insuccessi, taglia intanto Amadia e Battilana con Ranellucci e Padovani al seguito. E allora stessi undici di domenica scorsa per il Giulianova con le eccezioni di Mora, esordio per lui tra i pali e Mariani, quinto di centrocampo, mentre D'Aderio schiera Martiniello in luogo di Franzese e Meola. 42 secondi, erroraccio di caso che serve, si fa per dire Martiniello, il cui pallonetto bacia la traversa ma bacia anche la fortuna giallorossa. Settimo angolo di Meola, testa secca di Martiniello, Mora si ritrova, il pallone in bocca va stese padrona del campo e del gioco. Giulianova è incerto, è poco convinto, sebbene con il passato del tempo riesce almeno a limitare i biancorossi al solo tiro dalla distanza. Alla mezz'ora, prima occasione giallorossa con Cesario che costringe in angolo di Rienzo, ma l'impressione è che avrebbe potuto fare meglio. 37esimo stessa, impressione per Paudice, sette minuti dopo, che ci va leggero e stanco. Palla quasi innocua, al 43esimo in area, ma Ferrini si perde palla e Mamona è per l'interno biancorossa e cosa fatta per il vantaggio? 0 a 1. Con le immagini di Maria Carannante subito nella ripresa e in 20 secondi c'è la saga dell'errore oppure la banda del buco, fate voi. Ma qui non serve commento. 10 minuti, guizzo giallorosso d'Antonio per Paudice che però fa la peggio, cosa che gli riesce meglio. Oltre ogni aspettativa, al 14esimo avviene il pari, c'è il cross di Danna, Barbarossa in area frana su Antonelli per Vito Guerra e rigore. Paudice aumenta il suo numero di maglia e fa 1 a 1. Sette minuti dopo, a dire il vero, il Giulianova troverebbe anche il gol del vantaggio, ma l'assistente di linea pesca Cesario di una gamba in offside quando mette dentro un bel servizio di Paudice. Sembra un Giulianova più convinto, più coriaceo, più in palla, ma i biancorossi provano ad alzare ritmo e linea di pressione. La gara si fa più godibile e avvincente, ma di vere e proprie occasioni da gol non ce ne sono. Sicuramente stanchezza e poca lucidità prima del fischio finale. Prova Barlafante a rompere l'incantesimo in pieno recupero, valleggiadro su tutto il campo, salta chi vuole e poi prova l'angolo opposto a quello di tiro. Palla fuori, ma avrebbe meritato altra sorte e poi il triplice fischio del giusto 1 a 1.